Salve a tutti, sono Renato della Dino Group, oggi vi presentiamo il nuovo top di gamma dei prodotti LiveU, il LiveU 70, una soluzione uplink portatile su base UMTS 4G LTE e successivamente con il rilascio di una release software avremo anche la possibilità di integrare all'interno dello zainetto una connessione satellitare su banda KA, selezionabile dall'interfaccia grafica. Lo zainetto si compone appunto di uno strumento di trasmissione che è questo qui e di uno zainetto positivamente progettato per essere posizionato sulle spalle del cameraman, quindi garantendo una piena mobilità nell'uso dello strumento. La tecnologia LiveU si basa sulla somma delle connessioni per la trasmissione, quindi abbiamo 7 SIM da poter utilizzare per la trasmissione, la cui somma viene aggiunta a una connessione LAN che troviamo qui avanti e eventualmente una connessione Wi-Fi che appunto viene sommata alla connessione LAN, la connessione Wi-Fi e le 7 SIM disponibili all'interno dell'attrezzatura. Lo zainetto è compatibile con qualsiasi telecamera tramite connessioni SDI o HDMI e inoltre possiamo utilizzare batterie di tipo Goldmont o V-Mount. Inoltre lo zainetto è completamente controllabile da una semplice interfaccia touchscreen che è posizionata sulla parte frontale dello zainetto, che è gestibile con controlli semplici e user-friendly. Possiamo gestire vari profili, la connessione, l'upload eventuale di file per la gestione di forward upload, poi abbiamo le opzioni, l'IFB e il blocco dello schermo, poi abbiamo l'indicatore della trasmissione, quindi se è offline o online, poi ci sono le varie tipi di connessione, ovvero Wi-Fi, se è collegata a una telecamera e l'indicatore della batteria. Capovolgendo lo zainetto possiamo procedere all'installazione delle SIM all'interno dei modem. Ogni modem prevede due slot, quindi due SIM, in sostanza abbiamo 14 SIM, ma lo zainetto ne somma solamente 7, in quanto l'altro slot è previsto solamente per il roaming internazionale, quindi se si trova in un altro paese si può switchare dall'interfaccia grafica verso gli altri operatori e quindi utilizzare il roaming internazionale. L'inserimento delle SIM è molto semplice, basta inserire appunto la SIM all'interno dello slot e con un semplice clic l'installazione è effettuata. Una volta effettuata l'installazione delle SIM all'interno dello slot dei modem, per selezionare le SIM bisogna dall'interfaccia grafica andare a selezionare Option, Settings, Settings, scendere dall'interfaccia e in Utilities selezionare lo slot A o lo slot B a seconda dello slot utilizzato e delle SIM inserite nello slot rispettivo. Una volta completata la procedura di selezione degli slot possiamo andare ad analizzare le diverse connessioni all'interno appunto del menu Option, Interfaces e nel menu Interfaces troveremo i diversi modem con i diversi gestori che abbiamo installato all'interno dei modem e non solo, in quanto in fondo troveremo anche le altre connessioni eventualmente disponibili come Wi-Fi, un'eventuale connessione LAN, tutte queste connessioni verranno poi sommate per permettere una corretta trasmissione in qualità broadcast. Una volta verificate le connessioni dal menu Interfaces, dal menu Option sempre, se andiamo nel menu Server, possiamo selezionare il tipo di server a cui streamare e quindi collegarci per effettuare la trasmissione. E qui avremo un elenco di server da gestire, dove averlo selezionato e inserito all'interno l'IP e le varie porte verso le quali streamare, saremo pronti per la trasmissione. Dall'interfaccia grafica, prima di trasmettere, possiamo inoltre selezionare i profili di trasmissione, scegliere quindi se in qualità SD o HD e scegliere se è una qualità di intervista, quindi con il minor ritardo possibile, oppure una qualità bilanciata, dove possiamo poi customizzare noi le diverse qualità e il ritardo, o un'alta qualità, dove però il ritardo sarà ovviamente più alto, però ci permetterà di avere una camera in movimento e quindi una qualità maggiore. Per concludere, possiamo dire che il Live View 70 è un sistema molto flessibile, altamente flessibile, che risponde benissimo ad ogni esigenza, appunto dall'esigenza broadcast, al web streaming, alla news d'assalto. Per ulteriori informazioni, contattateci sul nostro sito www.dunogruppo.it. Grazie per l'attenzione.